Oggi la partita è partita molto bene, abbiamo tenuti lì, abbiamo sbloccato il risultato dopo 4-5 minuti, poi secondo me su due errori nostri loro hanno chiuso un po' la partita, è una nata positiva, non pensavamo neanche di arrivare qua, un po' di ramarico c'è perché una volta che sei qua alla finale vuoi andare il più avanti possibile, però va bene così, purtroppo andiamo avanti, ora vediamo un po' il prossimo anno cosa si fa.